Questo mese di aprile segna un altro passaggio importante di questo 2023 di riforma sanitaria. Dopo la riforma è arrivata la bozza del piano socio-sanitario ed è cominciata la fase di incontri con tutti i portatori di interesse di questo piano. Ne parliamo con il consigliere Nicola Baiocchi che è anche presidente della Commissione Sanità. Come si svilupperà il confronto che porterà all'approvazione di questo piano socio-sanitario? Sì, praticamente si svolgerà in questo modo la Giunta, quindi il governo della regione con il presidente e l'assessore alla sanità andranno nei territori in tutte le province con gli stakeholders, con i sindaci, con i portatori di interesse a presentare questo progetto, questa bozza come tu hai correttamente detto, dove ci sono le linee guida, un progetto di indirizzo per la nuova sanità. Dopo la riforma dell'organizzazione adesso arriviamo al progetto di piano socio-sanitario. Poi ci sarà ancora qualche settimana di questi passaggi al fine di creare il maggior consenso possibile e naturalmente un progetto aperto a modifiche e correzioni se fosse necessario. E poi arriverà, dopo l'approvazione in Giunta, arriverà nella mia commissione dove ricominceremo un nuovo lavoro di concertazione con i territori, con i portatori di interesse per rendere questo progetto il più condivisibile possibile che va in direzioni molto importanti legate alla grande lotta alla mobilità passiva, alle liste d'attesa, all'implementazione delle reti cliniche, in generale non posso chiaramente dirti tutti i punti di 200 pagine di piano e andrà in direzione molto chiara anche in ordine al DM77, quindi case di comunità, ospedali di comunità, ecote, quindi una sanità territoriale molto più vicina ai cittadini per cercare di correggere quegli errori, quelle strutture della passata sanità. Gli interlocutori in questo momento sono le amministrazioni, i sindacati e le unità ospedaliere? Assolutamente sì, poi ci sarà il Comitato dei Sindaci, ci sarà veramente un lavoro molto ampio nel territorio e anche nel termine della mia commissione che è aperta praticamente a tutti, a suggerimenti, a correzioni e integrazioni, non è un piano chiuso, è un piano che se ci fosse necessità di modificare, correggere o migliorare siamo assolutamente pronti.